Scoperti come gli extraterrestri diventano protagonisti e si lascenti, assoluto. Due extraterrestri atterrano sulla terra e vedono un benzinaio. Uno dice all'altro, guarda, hanno già addomesticato i dinosauri. Un extraterrestre va dal dottore e dice, ho un problema. Ogni volta che bevo il caffè, mi fa male l'occhio destro. Il dottore risponde, avete provato a togliere il cucchiaino dalla tazza? Un alieno entra in un negozio di animali sulla terra e compra un pappagallo. Tornato sul suo pianeta, si lamenta con l'amico, questo pappagallo che ho comprato non parla. E l'amico gli risponde, e tu gli hai tolto la lingua dal congelatore?